Avevano razziato ben 5 supermercati in poche ore facendo incetta di prodotti per l'igiene personale, profumi ma anche generi alimentari, nascondendo il tutto dentro una borsa. Adesso sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sansepolcro. Si tratta di un 25enne e di una 23enne, entrambi di nazionalità romena ritenuti responsabili di una serie di furti messi a segno nelle province di Arezzo e Perugia. I due, con una lunga lista di precedenti alle spalle, sono stati colti all'uscita di un noto centro commerciale di Sansepolcro, mentre tentavano di portare via decine di prodotti. Gli investigatori, avendo riconosciuto la donna già gravata da un foglio di via, hanno seguito a distanza i movimenti della coppia per poi fermarli all'uscita con la borsa ricolma di refurtiva. È stata così perquisita anche l'auto dei due, una sportiva di grossa cilindrata dove i carabinieri hanno trovato un notevole bottino. I militari poi sono riusciti a risalire anche agli altri furti commessi dalla coppia nelle ore precedenti, individuando i luoghi dove avevano messo a segno gli altri colpi. In totale la coppia era riuscita a svaliggiare cinque supermercati per un bottino dal valore complessivo di circa 3.000 euro. La refurtiva è stata interamente riconsegnata. Dopo la convalida dell'arresto e il giudizio per direttissima, i due sono stati condannati a otto mesi di reclusione, mentre per i furti commessi fuori dalla provincia di Arezzo si dovrà attendere la celebrazione di un altro processo.